ciao sono francesca da sempre lettrice amante dei libri anni fa ho conosciuto carlo che ha la mia stessa passione e insieme abbiamo pensato e poi messo in pratica abbiamo pensato di aprire una libreria indipendente e abbiamo pensato che mancasse una realtà del genere una realtà in cui tu puoi chiacchierare con un libraio confrontarti e capire cosa fa per te e soprattutto conoscere un mondo editoriale diverso rispetto a quello che viene proposto dai grossi gruppi editoriali le piccole realtà i piccoli editori spesso e volentieri riescono a pubblicare dei testi che difficilmente si trovano in giro che hanno una promozione magari una distribuzione in parte limitata ma che valgono e che quindi vanno conosciuti diciamo che quando è nata si può dire quando esplosa l'emergenza covid è stato così tutto così veloce e improvviso che nel giro di pochissimo abbiamo dovuto capire come portare avanti il nostro lavoro a porte però chiuse quindi lavorando da casa questo confronto con il lettore con con il cliente abbiamo dovuto instaurarlo attraverso un computer abbiamo passato le giornate effettivamente al computer a rispondere ai clienti e alla posta a fare la fila alla posta per fare le spedizioni e poi anche a fare le consegne a domicilio e là è nata una bellissima idea e cioè l'idea di fare le consegne in bicicletta con l'uso della bicicletta porta gli ordini dei clienti sotto casa a casa c'è anche da dire una cosa e cioè che negli ultimi mesi è nata una piattaforma online che aiuta proprio le librerie indipendenti per gli ordini con i clienti e noi riceviamo semplicemente degli ordini sistemiamo il tutto e i passaggi quindi sono molto semplificati molto molte soddisfazioni e basta